Da Presidente sono veramente contento e orgoglioso di fare questa inaugurazione perché per diversi motivi, uno, in un momento così difficile che comunque si vedono negozi chiudere, noi si apre un negozio, si dà lavoro a delle persone. Due, si riesce a portare una cultura anche qui a Francia della cooperativa Agrigola Tirenzola che ormai da 40 anni, più di 40 anni, questa cooperativa è riuscita a crescere, è riuscita a specializzarsi con le loro razze da carne, con la cultura dell'allevamento, per il miglioramento genetico, per il benessere animale e ha fatto tanto e è cresciuta collaborando con la grande distribuzione, aprendo diversi negozi, ne abbiamo inaugurato uno anche 15 giorni fa a Sesto Fiorentino che sta andando molto bene, anche quello, e quindi insomma siamo veramente soddisfatti, ma la cosa più importante è che parlare di allevamento oggi si parla d'ambiente, si riesce ancora a mantenere l'ambiente attraverso i nostri allevatori, noi allevatori e credo sia una cosa importante, fare carne vuol dire mantenere l'ambiente e la cosa più importante è che oggi il cibo credo sia più importante di ieri, il cibo sano e il cibo buono che arriva dalla nostra terra, dall'Italia, dalla Toscana, dal Mugello, da tutti noi insomma, credo sia importantissimo perché la salute, il cibo credo sia una parola importante per il benessere di tutti noi. Grazie a tutti.